Siamo quadrati, guarda lo tsunami che travolge, in questo caso, diciamo la nostra forma fisica. Roberto Fusineva, questa sera la sigla è un po' così, è andata a Romengo, ma non importa. Ciao, benvenuto qui, sono anche tu, bentornato, buon anno Roby! Ciao Fabio, buon anno, ciao a tutti gli ascoltatori, buon anno anche voi e ci risiamo, siamo qua a recuperare da tutte le buffate di questi giorni, di queste giornate difficili. Ascolta, non poteva che essere così il tema di questa sera, perché dopo che le abbiamo insegnato come cercare di trattenersi nell'aumentare il peso e comunque non renderevano tutti i sacrifici fatti, noi sappiamo che qualcuno avrà un po' anche sgarrato e quindi qua pronti a rimediare, dici tutto Roby. E quindi qua pronti a rimediare, allora devo dire che partiamo da delle cose abbastanza scontate, però andremo poi nello specifico a capire come fare queste cose nel post, perché parliamo di come fare a recuperare da quelle che sono state le abbuffate di questi giorni e magari quelle che ci saranno ancora, perché magari ancora qualche giornata di festa. Ecco, sicuramente dobbiamo cercare di mangiare di meno, muoverci di più, detossificare e integrare. Ecco, queste sono le quattro cose che dovremmo sicuramente fare in questi giorni per riuscire a migliorare la situazione. Mangiare meno, muoversi di più, penso che tutti comprendono cosa voglia dire. Esatto, mangiare di meno, muoversi di più, lo capiscono tutti, però c'è un però perché prima di tutto dobbiamo cercare di riuscire a capire se prima delle feste eravamo stabili oppure no con il peso corporeo, perché questo è molto importante. È molto importante perché se eravamo stabili dovremmo cercare di calcolare quelle che sono le calorie che mangiavamo prima delle feste e riuscire più o meno a ridurle di un 500 chilocalorie al giorno. Questo ci permetterà, se lo facciamo in maniera corretta, di andare a perdere quel mezzo chiletto a settimana che comunque può aiutarci a recuperare velocemente nel nel post feste. Qualora invece prima delle feste, già prima delle feste fossimo stati in una situazione di aumento di peso, ecco lì dovremmo cercare di diminuire di 700-1000 chilocalorie al giorno e questa è la cosa molto più difficile. Perché? Perché non dobbiamo mai andare sotto il nostro metabolismo basale. Il nostro metabolismo basale essenzialmente è il quantitativo calorico che abbiamo bisogno per sopravvivere. I nostri organi hanno una quantitativo di calorie necessario per sopravvivere, per funzionare correttamente. Se ne mangiamo di meno abbiamo problematiche. Formula molto molto semplice per sapere il metabolismo basale, 24 per il peso corporeo desiderato per l'uomo, quindi le 24 ore giornaliere per il peso corporeo, un uomo di 80 kg sono all'incirca 1920 chilocalorie. Sto prendendo la calcolatrice per fare il calcolo. Ok. E invece per la donna è 24 per il peso corporeo per 0,9. La donna ha un metabolismo leggermente più basso, una donna di 60 kg ad esempio sarebbe intorno alle 1300 chilocalorie per intenderci. L'altra cosa è muoversi di più. Muoversi di più ci dicono sempre di fare 10.000 passi al giorno ma sappiamo un po' 10.000 passi al giorno che cosa vuol dire anche a livello di consumi. Ecco l'associazione italiana di disturbi dell'alimentazione e del peso ha sul proprio sito un calcolatore per andare a scoprire indicativamente quante chilocalorie consumiamo in base al numero di passi che facciamo giornalmente. Per farti un esempio io peso sui 100 kg, faccio 10.000 passi al giorno, consumo all'incirca 500 chilocalorie. Quindi anche aumentando quindi il movimento, facendo i famosi 10.000 passi al giorno, posso andare a perdere quelle 500 chilocalorie che mi servivano. Se pesi di meno mi dispiace ma ne consumerai un po' di meno. Quindi dovremmo farne un po' di più. E quanti chilometri sono? Eh beh qua dipende un po' dalla lunghezza del passo perché semplicemente dobbiamo moltiplicare poi il tutto per la lunghezza del nostro passo. Però diciamo che tendenzialmente se facciamo un 5-6 chilometri al giorno già abbiamo fatto una buona parte di movimento. Ok, stiamo parlando comunque che di movimento diciamo a bassa intensità. A bassissima intensità sì perché poi logicamente se andiamo ad aumentare l'intensità, ti faccio un esempio, giochiamo a tennis, in un'oretta di tennis ma anche blanda, senza esagerare, consumiamo anche più di 350 chilocalorie. Quindi se andiamo a fare ad esempio un'ora di canottaggio, consumiamo più di 500-600 chilocalorie. Quindi se venite a fare il mio sport, sappiate che si consuma parecchio. La cosa, la fregatura è, ricordatevi anche questo, che ad esempio mangiando 50 grammi di frollini, che sono circa 3-6 pezzi, dovremmo fare 56 minuti di camminata veloce per smaltirli. Quindi vorrei ricordarvi anche questo, o il salame che in questi giorni poteva essere una delle cose che trovavamo quasi tutti sulla tavola, 80 grammi di salame che sono 13 fette, quindi sono un po', sono 71 minuti di camminata. Ok, quindi attenzione. Poi abbiamo detto detossificare, quando parliamo di detossificare in medicina si dice, si utilizza il carbone attivo per detossificare, ecco non andremo a toccare quello, perché? Perché quello va, se lo utilizziamo in dosi elevate, va anche a bloccare quelle che sono le vitamine minerali che introduciamo giornalmente, però possiamo ad esempio cercare di ridurre l'esposizione ai fattori inquinanti, quindi tutti quelli che sono i pesticidi, quelli che sono il fumo, quello che è comunque anche lo smog, quindi cercare di pulire bene la frutta, cercare di pulire bene la verdura e ogni tanto anche cuocerla perché è anche quello importante, quindi questo può aiutare per detossificare, per aiutare il nostro corpo a eliminare tutte le tossine anche accumulate durante questi giorni. E poi ci sono i famosi broccoli che possono aiutare a pulificare il nostro il nostro fegato e quindi potrebbero essere utilissimi e quando parlavamo prima di integrazione, quindi la quarta cosa, ci sono degli integratori che aiutano proprio a eliminare un po' queste tossine che abbiamo accumulato in maniera elevata in questi giorni ma che accumuliamo anche durante tutto il resto dell'anno. In questo caso abbiamo un integratore che si chiama cardomariano, che è un ottimo per ridurre appunto quella che è il, chiamiamola l'intossicazione, poi non è in realtà proprio così ma per farci capire del del fegato, oppure ci sono anche l'acetilcisteina, N-acetilcisteina che può essere un integratore che aiuta sempre per detossificare. Ecco, queste sono un po' le cose da fare. Quindi ricordarsi di muoversi di più, mangiare di meno. Soprattutto in funzione di come si era prima del periodo e poi appunto fare qualcosa che possa in qualche modo aiutare il nostro organismo a eliminare quello che sono gli accumuli che dal fegato o comunque nell'intestino possono essere tossici. Esatto. E ultima cosa, ultima cosa, ricordatevi che noi siamo per la maggior parte formati da batteri, quindi sono loro che ci gestiscono, non siamo noi che gestiamo loro. Ricordatevi di curare anche loro, quindi anche un utilizzo dei probiotici e dei prebiotici, quindi che aiutano a migliorare la flora batterica, possono essere molto utili proprio per recuperare da queste mangiate, da queste feste esagerate. Ok, diciamo che ci hai dato un bel lavoro da fare, ma è giusto, insomma, abbiamo fatto vacanza e quindi adesso bisogna lavorare. E bisogna lavorare, bisogna lavorare. Se volete avere qualche altra informazione, allora, la trovate ancora su questo libro che ormai è un po' vecchiotto, perché Fabio è dal 2015 che l'abbiamo. Dovremo rifare la nuova edizione, quindi un po' di informazioni le trovate qua sopra, altrimenti undertraining.ch trovate un'infinità di informazioni che possono esservi utili per recuperare velocemente dalle feste. Va bene, Roby, grazie mille, ringraziamo, ovviamente a Roberto Pusinelli e diamo appuntamento a settimana prossima. Grazie a voi, grazie mille Fabio, a settimana prossima e mi raccomando, sempre in forma.